Entri in tuo corpo, in tua muscolatura ecco te la due, due dischi abbiamo fatto entrare cosa vuoi tu un massaggio terapeutico periodo stale va bene, tutto qua, hai due cuscini, rilassati riposa tranquillo ma i youtube ti scrivono tutti in inglese perché? eh perché in inglese vedono i video, pochi dall'italia e cosa hanno commentato? perché non si capisce oggi l'ho detto a un amico mio che è stato, mi ha detto a lavorare mi ha detto, vedi ma dove ho scritto in inglese? ecco ti guarda questa parte, guastafesta, tutto è guastra questa parte, chi è colpa? lui si è colpa e se non lo guardo nell'italia perché lo devi rimandare? perché lo devi fare quando non lo guarda l'italiano? se te ne frega l'italiano? e se lo vendi? no no, dove lo devi vendere? che prese? già non sopporto nessuno più ecco ti guarda, dai dai i miei muscoli apri e ti prendo così entro il tuo corpo e ti levo vedi come è chiuso, vedi come è storto? la scapola qui, tutto il torace con la spalla la vediamo da mettere a posto ameno guardate caro trezza del mare brava, sei grattato qua? sei grattato? sì va bene ecco ti guarda apriamo bene il tuo corpo e i muscoli sono tanti i muscoli eh 630 gruppi di muscoli come posso lavorare tutto, vedi? mi chiudo gli occhi entro in tuo corpo e muscolatura e guardo da liberarti ma devo entrare più profondo per gli ostali ti ho detto massaggi per gli ostali dove si attaccano i tendini sull'osso questa parte c'è l'altro interiore abbiamo questi muscoli intercostali li apriamo perché qui non si fanno questi massaggi non esiste lascia perdere nessuno vuole lavorare io ti devo aprire tutto muscolatura a sentirti scioltola stasera ti prendi l'aspirina per forza tedesco Bayon Leverkusen con F recente C e ti sciogli mangi e ti sciogli domani mattina un altro e sei bomba ti è sciolto tutto e se l'occhio ti apre ci vuole chimia qualcuno dentro ti devo aprire io ti faccio esterno massaggio non fai nessuno né 10 né 20 flessioni no ma dopo sei più vecchio dopo sei vecchio chi ci ti aiuta no tu lascio perdere me muscoli ci vuole ogni corpo ci vuole solo muscolatura frate se no inutile io ti posso mettere il disco esce così prepariamo qualcosa ma in genere questi muscoli devi dare cibo immaginato se non sporta guarda qua guarda sta oh signore mio guarda come sono rigidi queste da la senti? gli adduttori tutto ti massimo e tu lo dai da mangiare troppo e vedi come è diventato e no lo devi dare da mangiare lui al gruppo zero non deve mangiare questa roba pasta pazza pane pizza quella di farina diciamo farinacci e yogurt quello di mucca di mucca non deve bene latte e latticini di mucca non deve usare si 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 quello lo gonfia è veleno per lui per il suo corpo vedi com'è rosso guardi qua senti qua cioè tu lo vedi piuttosto lui senti e dice madre si è riscaldato bene dietro laterale dammelo questo muscolo sterno calma il barbiere che fa quando una volta si usava il barbiere monolo così si apriva questi devo sterno calma se ti apro questa sei da dio oh coccolino non c'è muscolo? no e chi ti legge la coccia? chi ce la legge? ecco te la due due dischi abbiamo fatto entrare ave maria altra cosa no altra cosa io pesiamo oh 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 vedi? è entrato è sluogato ecco anche qui madonna fratello ma che fai? qui ci vuole il poste fino delicato vedi com'è delicatissimo e come l'abbiamo? ecco se 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 ah oh 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 covid covid oh oh covid si è fatto male guarda come si è ah uncarezzato bene con i unghi si è fatto male guarda come si è uscito tutto ah 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 ginocchio già si è aperto ah abbiamo ancora da fare ah ragazzo ah da qui non c'è da questa parte no solo da vedere ti stendo ti stendo un po' ah non è capitano sei dimenticato già ah quella è il diagonale di kabat sempre si chiama madonna quante cose c'era una volta pfff quante cose si dimentica ah vabbè ah il diagonale di kabat è importante eh sottra seppre eh era una volta da quando stavamo giovani senti freddo te copro no no perfetto va buona è un bello caldo eh si è caldo stavi scaldato si 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 ma prima ecco perché non mi piacciono i cavigli madonna santa si troppo 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 debole troppo devi camminare un po' lo sai tu non cammini eh non c'è la resistenza bella forza la forza è con ah che bella ecco ti è entrato l'hai sentito si è entrato era slogato si era slogato ci mettiamo olio perché c'è che lo coprano così mi sarà freddo il corpo sopra così copri adesso devo lavorare con le gambe le gambe grosse e grosse si le gambe si ma devo camminare un po' la bici usi bici poco poco non aspettavo così ma quella che è più debole ragazzi è debole devi mettere il cavigliere il cavigliere il ginocchia dai ecco io sono con la cinta dovete vedere con la cinta sono io cinta si ecco si le protegge da dietro e davanti mi se ne va se esce me disco che ce le devo mettere è difficile guarda ci voleva un po' lo riscaldiamo lo facciamo maschio dai maschio preparati vediamo è compatto vedi perché appoggi tu ecco questo è slugato tutto qua l'hai sentito giusto è entrato cavigliere ti devi mettere tutte e due quella più densa questa muscolatura perché lui appoggia tutto il corpo su questa gamba quella più lunga è abbastanza lunga molto lunga si comandante comandante si si qualche muscolatura c'è qui pesante io dovevo essere a nord Italia qui non va bene a Italia comincia da po' in su qui niente Ancona fino a Ancona si Ancona fino lì è diversa Italia qui puoi dimenticare da qui in giù non lo sarà dimenticato anche da Dio è entrato anche il ginocchio sentite un po' ma quella più tendinace che si allungano io ti devo allungare il tuo tendine che si è oh segale sì 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 sì